Siamo con Jessica Rivero al termine di questo derby, vinto 3-2, una bellissima rimonta dell'LPM. In questo momento non sei sola perché c'è anche la tua famiglia accanto con tua mamma e il compagno di tua mamma. Un'emozione immagino grandissima. Sì, sono molto contenta perché anche che loro sono qua, le ho potuto dare questa vittoria. È stata una partita bellissima da giocare e credo anche da vedere. Anche Cuneo ha giocato molto bene ma alla fine credo che noi abbiamo buttato fuori la grinta che abbiamo e che l'avevamo perso un po' nelle altre partite. Dopo il 2-0 del Cuneo sembrava difficile la rimonta e invece siete riuscite in questa impresa. Sì, molto difficile ma come ti ho detto abbiamo buttato fuori la grinta e abbiamo lottato ogni pallone. Un'emozione immagino anche per la mamma che ha visto veramente una grandissima Rivero oggi in casa. No, no, no. E tu di Alma che sei felice? Tu sei molto felice, molto felice, molto contenta. Grazie, auguri. Grazie, grazie.